Tre furti nel giorno di chiusura di Oro Arezzo, altrettanti i buyers derubati che erano arrivati in città proprio per la manifestazione. I primi due episodi in un hotel che si trova a pochi passi dell'Arezzo Fiere e Congressi dove sono state assaltate le cassaforti in due camere distinte. In entrambi i casi il ladro, un vero e proprio professionista, una volta dentro ha portato via direttamente le casseforti. Una conteneva 3.200 euro di preziosi denaro, oltre che documenti, nell'altra un bottino più consistente, circa 16.000 euro. Derubati una coppia di sudafricani per la prima volta ad Arezzo ed un cliente storico della fiera. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Un secondo episodio invece si è verificato in via Guido Monaco dove è stato derubato un buyers tunisino al quale una giovane ha sottratto una busta contenente circa un chilo d'argento dal valore di 1.000 euro. Providenziale l'intervento di alcuni turisti che hanno rincorso l'autore del colpo sino all'arrivo delle forze dell'ordine, denunciato un ventenne con precedenti per furto. I preziosi invece sono stati restituiti al proprietario. Sul posto polizia municipale, carabinieri e sanitari dell'emergenza urgenza. Purtroppo è un tema ricorrente durante le fiere, non solo a Oro Arezzo. La cosa peggiore poi è che vengono rubati anche documenti, quindi passaporti. Inizia un iter un po' noioso. Ci vuole un'attenzione particolare che però mi sembrava di aver visto soprattutto intorno al padiglione fieristico di Oro Arezzo. Probabilmente bisognerà poi prossimamente dotarsi di maggiori sistemi di sicurezza negli hotel che ospitano i buyer.